Una serata magica, non trova? Perfetta, veramente grazie a voi che l'avete condotta alla grande io farei un altro grande applauso a Elisa e a Pele che sono stati proprio hanno messo l'anima in questa edizione sia dal punto di vista artistico sia come condizione grazie al valore aggiunto pure di televische e dei tecnici che veramente ci hanno regalato una serata perfetta, fluida, godevolissima, molto bella chiaramente complimenti dal più piccolo al più grande però non può mancare un abbraccio da parte della comunità di Procida alle persone che sono state sullo sfondo per tutta la serata cioè i nostri grandi marittimi che hanno fatto grande Procida e che continuano a farle grande ma il grazie più grande, consentitemi va alle grancie, va a Procida grazie a voi che avete messo il cuore e l'anima in questa realizzazione in questa edizione della Sacra del Mar senza la vostra partecipazione non ci sarebbe stata la magia di questa sera Proclamo Graziella 2015 Clelia Montagna è una graziella 2015 riceve l'applauso di tutte queste bellissime canciune a chi d'è questa vittoria? a mia madre che anche lei vince la graziella quasi 40 anni fa e si adeguò a lei questa vittoria in quel anno che è? nel 77 nel 77 a prescindere dalle vittorie è stata un'emozione bellissima tutta la serata, le serate di presentazione è veramente un'emozione stagliere questo palazzo quindi consiglio a tutti di voi questa esperienza Procida ha la sua graziella 2015 Clelia Montagna Clelia Montagna Clelia Montagna Clelia Montagna